Primo Festival Golfo di San Nicola, Argentiera, il ritorno di Sassari in piazza, con una puntata speciale dedicata al folk. Sabato 29 maggio, ore 20 e 30, il ritorno della festa dell'argentiera e il ritorno di Sassari in piazza. Su TeleG, con il patrocino del Comune di Sassari, Assessorato Cultura Sport e Spettacolo.